il tuo datore di lavoro sta con una mano sul portafogli perché oggi non guadaglia a 30 euro, guadaglia a 400 euro quanto paghi d'affitto muratore? e lui oggi ha le mani pulite, voi vi state sporcando per 30 euro il fronte te la farò la Francia Napoleone lascia il portafoglio e paga i tuoi pelai quando domani sarai senza casa, se sarai senza casa ricordati di quello che stai facendo quando domani non ti pagheranno, ricordati di quello che stai facendo e piangici su e ti lamenti, ti dà un pastore, tira fuori gli denti più servo tempo fa a rindare a piazza è già sacrificato, lui non lo sa ma siamo della stessa parte è solo che lo deve ancora capire speriamo che lo capisca prima della fine di questo muro scusa ma perché non lavorate con le protezioni? la cintura si deve mettere che il casco mo se l'è messo mo che lei l'abbiamo ricordato noi state lavorando la Polizia Provinciale che controlla queste situazioni dove sta? nascosta a dormire in macchina? eh sì perché la Polizia Provinciale controllate al posto di fare altre cose i pagati dalla provincia ti stanno raccogliendo le rape e i pinocchi che abbiamo piantato noi i muri con noi ma ti rendi conto che per 30 euro stai rischiando di spaccarsi? ti rendi conto per 30 euro non spendetevi la dignità il piano bastone tira fuori gli denti e Cristo gli ha rispondi grazie a tutti